Sulla vicenda del Giuseppe Garibaldi scriveremo e parleremo a lungo molti pareri e le dissertazioni, pochi fatti, uno su tutto, costruire un progetto dove più che gli schizzi e i disegni, oggi facilissimi da fare con l'intelligenza artificiale non, bisogna individuare possibili finanziamenti dello Stato e sponsor importanti che si rendano disponibili a un programma vasto e articolato. Oggi le dichiarazioni, l'intervento scritto del deputato Maiorano di Fratelli d'Italia, ricordiamo che l'onorevole Giovanni Maiorano è membro della Commissione Difesa alla Camera dei Deputati, che tranquillizza perché scrive «Nessuno scippo per la città di Taranto per quanto riguarda l'idea di trasformare l'ex portaerei in un museo navale galleggiante. Ad oggi non c'è nessun atto ufficiale in merito al destino del Garibaldi che è ancora in piena efficienza ed uscirà dalla linea di flotta alla fine dell'anno. Al momento ci sono solo delle interlocuzioni, anche perché le diverse ipotesi in campo sul futuro della nave sono ancora in una fase di valutazione embrionale tra il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore della Marina. Ancora Maiorano il progetto di musealizzare l'ex ammiraglia a Taranto al termine della sua vita operativa potrebbe rappresentare un'importante occasione di rilancio del territorio e allo stesso tempo rinsaldare il legame storico tra la Marina Militare italiana e la città dei Due Mari. Già da tempo, afferma Maiorano, di essere in contatto con il Ministro della Difesa, Crosetto, per valutare concretamente questa opportunità.